Io mi auguro che tutti i partiti si pronunciano e che i grandi partiti dicano, ad esempio, su due temi molto importanti di libertà e responsabilità, come quello della legalizzazione dell'eutanasia, quello della legalizzazione della cannabis, i grandi partiti si pronunciano. Io mi aspetto certamente che il PD prenda una posizione, non solo perché la legalizzazione dell'eutanasia è un tema già affrontato e risolto in tantissimi, nella maggior parte dei grandi paesi europei, ma perché la legalizzazione della cannabis, ad esempio, è entrata nel contratto di maggioranza e quindi nel programma di governo in Germania, dove il cancelliere è un socialdemocratico, un socialista, quindi sarebbe positivo che il PD prendesse una posizione. Mi auguro che prenda una posizione per il sì.